Ragazzi sono benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi ragazzi assieme a fratello Ghedira che è qua guardatelo qua Dove siamo ragazzi? Dove siamo? Siamo a San Siro per l'Inter Juventus di campionato Mi raccomando prima di entrare lasciate un like e iscrivetevi a canale se ancora non avete fatto Detto questo entriamo nel settore ospiti, oggi è partita molto difficile, molto importante, la vedo dura La vedo dura perché giochiamo ogni giorno, però entriamo a San Siro in piccionaia e andiamo a vedere Forza Juve sempre, sempre Riccomando ragazzi se vi siete persi il video reaction da Friburgo nella trasferta appunto che è stata la settimana scorsa degli Ottavi Andate a recuperarvi il video perché ne vale la droga per Grazie Siamo entrati dentro a San Siro, ci siamo tra poco nel riscaldamento della Juve Mi raccomando carichi, siamo passi in Kichonaya, come sempre, va sotto la nostra in San Siro Siamo altissimi, però siamo carichi Siamo altissimi, siamo passi in Kichonaya, come sempre, va sotto la nostra in San Siro Siamo mette nelle formazioni, approviamo la nostra Juve, purtroppo loro ci piscano Allora ragazzi voglio disipare, quindi ragazzi, voglio capitarti questa atmosfera e questo stadio molto importante Ragazzi è Tosta, Tosta, io l'ho detto, non voglio mettere le mani avanti Però è Tosta Allora ragazzi, fuori i coglioni, è importante, non vinciamo la partita in trasferta in un big match, c'è da tantissimo tempo, bisogna tornare la vita Merda! 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 Informazioni fatte, squadre entrato in campo, iniziano il termine d'Italia, mamma mia, grazie l'ansia, mamma mia l'attenzione Vediamo di almeno fare una prestazione decente ragazzi, davvero questo, solo questo voglio, solo questo, solo questo Grazie, inizia la partita vediamo dai dai perché li facciamo andare lì al limite a cacciare preoccupati me grazie, pressi che cacciiamo non possiamo far cacciare Barello, bro attenti oh c'è c'è scritto ha mostrato si è lanciato Barello meno male che scelta non possono scambiare così la palla lì è già l'area nessuno ne marca nessuno i movimenti malari hanno fatto l'intervento da Lukaku e Barello attenti cacciare difendere meglio difendere meglio spara spara no andate 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 fin e vai fin se vai il pubblico servo aps Se c'è qualcosa è quando c'erano il radio e i traubici, è uno dei due ma è la presa di mano, non lo so, guardate, Mario, attacco noi da qua, ovviamente non sapremo mai se c'era qualcosa, abbiamo bisogno delle immagini da vedere, intanto inevitabile che ci sia sempre qualcosa da rompere il cazzo con noi. Sì! 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 Grazie, l'abbiamo portato a casa, una zela in casa di questi, una zela in casa di questi. E dai, grande partita di sofferenza, di voglia, di crescita, potremmo parlare di altre due, altre due a tre potremmo parlare. E quindi ragazzi, ci vediamo con un prossimo video, ci vediamo con la prossima reazione. E che godura, e che cazzo di godura, due su due quest'anno, due su due quest'anno, a casa. Grazie. 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 Grazie.